L'episodio dell'auto incendiata del vicecomandante della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Trani, il commissario Felice Depinto, la punta dell'iceberg di una situazione che fonti riservate nella casa circondariale definiscono esplosiva, già più volte denunciata ai vertici del promeditorato regionale e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Addirittura grave e inquietante per la commissione parlamentare antimafia che della vicenda si occuperà il prossimo 20 maggio, data nella quale ascolterà il direttore dell'istituto, il comandante del corpo, il suo vice, vittima dell'attentato e alcuni rappresentanti sindacali. Contrapposizioni interne emerge senza smentite, presunti favoritismi nei confronti di alcuni agenti a scapito di altri colleghi ghettizzati e mobizzati, fuori da un cosiddetto cerchio magico nel quale rientrerebbe del personale per così dire amico. Non solo, trattamenti di favore sarebbero riservati anche ad alcuni detenuti, qualcuno illustre e altri legati alla criminalità organizzata a cui ultimamente sarebbero stati concessi permessi premio. Tutto da verificare, sia dalle denunce di diversi agenti che dalle segnalazioni dei sindacati, infine da alcune lettere anonime recapitate nel penitenziario, che riporterebbero nomi, fatti e circostanze poco chiare. Il SAP, tra i sindacati numericamente più significativi, parla di situazioni non trasparenti e di impunità garantita a pochi. Lo stesso difende Depinto, spiegando che il funzionario avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel far venire a gala gli episodi su cui indaga la magistratura, a quanto pare non solo la procura ordinaria di Trani. A detta del sindacato, la condotta del vicecomandante potrebbe non essere gradita a qualcuno all'interno del carcere, abituato da qualche tempo a fare i propri comodi.